Eccoci ora con il consigliere comunale di Statte Daniele Andrisani, una serata quella di quest'oggi dedicata ai Genesis, ma come detto poc'anzi col sindaco l'estate statese è molto lunga, domenica un appuntamento particolarissimo. Annunciamolo proprio per far sì che gli Stattesi partecipino, ma non solo, ma da tutta la provincia ionica e in genere dalla Puglia, è bene che vengano qui perché parliamo di animali, parliamo di cani. Sì, hai detto benissimo, la nostra rassegna estiva è stata abbastanza lunga, tantissima gente ha apprezzato il nostro lavoro, sono venuti anche da fuori e domenica abbiamo un'ulteriore iniziativa, così come detto particolare, avremo una sfilata canina qui proprio nella biopiazza con starta di 17.30, le iscrizioni sono già aperte, scadono il 24 di agosto, l'iscrizione è gratuita, ci saranno premi per i miglior cani, il cane più elegante, il cane più bello, attestati un po' per tutti. L'iscrizione è aperta anche a cittadini Paesi Dimitrovi, quindi speriamo che venga una bellissima giornata in compagnia dei nostri amici a quattro zampe.